Abbiamo incontrato il segretario della CGL, l'Europa che vuole crescere è un'Europa anche dei diritti, diritti del mondo del lavoro, anzi con i diritti si cresce meglio e credo che in questo momento all'avvio della legislatura della crescita legata ai diritti del mondo del lavoro sia molto importante. Ci sono su ogni dossier che abbiamo qui in Europa una ricaduta sulla valorizzazione dei diritti del mondo del lavoro. Poi abbiamo bisogno di una politica che non pensi di fare da sola, le scelte che la politica deve fare devono avere consenso e naturalmente su tante questioni che riguardano l'economia, il mondo del lavoro, la crescita, la sostenibilità. Il punto di vista e gli interessi del mondo del lavoro devono essere ascoltati perché penso che siamo all'avvio di una legislatura in cui anche alcuni dialoghi devono essere molto più forti e presenti nel Parlamento europeo. Noi produciamo circa il 65% della legislazione nazionale per un paese come l'Italia. Abbiamo apprezzato moltissimo il Presidente del Consiglio che il giorno dopo la fiducia è venuta in Europa. L'Italia ha bisogno dell'Europa ma anche l'Europa ha bisogno di un paese come l'Italia. Se pensiamo a un'Europa più forte, anche i nostri paesi naturalmente ci sarà una ricaduta su questo positivo. Abbiamo parlato di migrazione, abbiamo parlato del bilancio pluriannale dell'Unione dove mettere i soldi sulla crescita, sull'agricoltura, l'industria, la sostenibilità, l'ambiente. Questa sarà una partita molto importante e abbiamo capito che l'Italia è dalla parte giusta. Non vogliamo fotografare l'esistente ma avere un bilancio dell'Unione più forte. L'Italia può dare un contributo diverso, un atteggiamento diverso verso l'Europa? Mi pare che ci sia grande aspettativa da parte italiana ma anche da parte europea. Un governo che viene salutato con grande stima. C'è fiducia naturalmente anche che l'Europa sia utile all'Italia. Ma certo che deve sparcare. Cosa pensano di risolvere il problema dell'immigrazione tenendo in mare 100, 200, 300 persone? Noi abbiamo bisogno di una politica per l'immigrazione. Ecco perché è molto importante quello che ha detto anche il Presidente Conte. subito la riforma del regolamento di Dublino. Chi arriva in Italia arriva in Europa ed è l'Europa che si organizza non solo per le centinaia di persone ma ad affrontare la questione dell'immigrazione che sarà una questione che ci porteremo dietro per molto tempo. E parlerà con Fondel Rhein di migrazione? Sentiamo cosa mi vuole dire.